attacco difesa due reparti sicuramente molto importanti al fantacalcio che spesso sono stati oggetto di discussione nelle varie community appunto del fantacalcio il video di oggi vuole mettere a confronto questi due mondi apparentemente così diversi tra di loro attacco e difesa ma in realtà non è così oggi andremo a risolvere qualche dubbio qualche dinamica strategica che spesso viene fuori quando si parla di budget quanto investire dietro quanto investire in avanti e vi dimostrerò che come spesso accade al fantacalcio per fortuna non c'è una risposta giusta e basta ma ci sono strade diverse che possono portare allo stesso risultato che poi è quello che ci interessa cioè vincere all'asta e dopo vincere al fantacalcio prima di continuare però mi raccomando ragazzi come sempre like al video ma soprattutto iscrivetevi qui sotto al canale che è gratis grazie mille vi ricordo inoltre che è gratis anche registrarsi su starks link qui sotto in descrizione starks è la prima piattaforma in italia dove è possibile acquistare i token dei nostri calciatori preferiti dateci un'occhiata troverete già un sacco di nomi interessanti fratesi strefezza immobile bove carne secchi e tanti altri dateci un'occhiata vi ricordo appunto che utilizzando il link qui sotto non pagate nulla al momento della registrazione e se poi deciderete di fare il primo deposito di almeno 20 euro riceverete perfino 15 euro in omaggio arriverà poi anche il gioco quindi è un bel momento per entrare su starks link qui sotto vi aspettiamo grazie mille allora ragazzi attacco e difesa parliamo subito dell'attacco storicamente l'attacco al fantacalcio è sempre stato il reparto dove tutti abbiamo investito più budget perché è normale che sia così perché poi alla fine della stagione se si va a vedere la classifica marcatori i primi sono sempre attaccanti perché se si fanno le cose fatte bene spesso un attacco costruito in un certo modo è anche sinonimo o di vittoria o di piazzamento a podio però innanzitutto cerchiamo di fare una distinzione a seconda del tipo di fantacalcio che stiamo facendo e cerchiamo di capire di misurare l'importanza dell'attacco allora possiamo già dire che in un fantacalcio a sei giocatori l'attacco è tutto o quasi cioè in un fantacalcio a sei avere un attacco che non funziona è praticamente impossibile poi riuscire ad essere competitivi in un fantacalcio a otto l'attacco è molto importante è sicuramente il reparto più importante rispetto agli altri ma non è fondamentale come in un fantacalcio a sei ma il suo peso specifico rispetto a una difesa rispetto a un centrocampo è molto elevato in un fantacalcio a dieci bisogna fare un po' una distinzione perché se si gioca un fantacalcio senza modificatore difesa o con un modificatore difesa abbastanza soft l'attacco è comunque molto importante per certi aspetti tarando anche il budget speso per i vari reparti credo che attacco e centrocampo ovviamente senza moddo con un mod leggero siano i due reparti sicuramente più importanti però a me piace pensare che ormai la maggior parte di voi anche proprio per dare delle alternative strategiche in sede d'asta utilizzi perlomeno un modificatore classico quindi io adesso vi farò degli esempi di fantacalcio con il modificatore classico in un fantacalcio a dieci ad esempio con almeno un modificatore classico l'attacco è il reparto forse ancora più importante ma vi posso assicurare che non è così fondamentale l'anno scorso è stato sicuramente un anno particolare è stata una stagione con tante cose che si possono probabilmente definire delle eccezioni prima tra tutte il mondiale in mezzo ma è stata forse la vera testimonianza la vera dimostrazione che lì davanti quando hai un nome un nome e mezzo che funzionano se hai fatto una rosa solida una squadra fatta bene in difesa e a centrocampo l'attacco tutto sommato non è così indispensabile e lo dimostra il fatto che l'anno scorso tante squadre che poi hanno vinto non hanno vinto con il 3 4 3 o col 4 3 3 ma con il 4 4 2 alcuni addirittura con il 5 4 1 o con il 4 5 1 perché questo è qua bisogna un po estendere il discorso perché se è vero e questo lo abbiamo appena detto ma spero sia una cosa abbastanza semplice scontata per tutti voi che a seconda del numero di giocatori in un fantacalcio più lo vai ad aumentare e più l'attacco diventa non dico ininfluente ma meno meno fondamentale pensate un fantacalcio a 12 l'attacco è sì importante ma è molto più importante avere una squadra solida strutturata in tutti i reparti quindi ovviamente più aumenti i giocatori al fantacalcio meno l'importanza si sente dell'attacco e questo è assodato però però e qua bisogna un po estendere il discorso negli ultimi anni è abbastanza oggettivo che tanti giocatori pagati tanto in attacco non abbiano poi sempre rispettato le attese e qualcuno di voi potrebbe dire è vero però questa cosa succede da ancora più tempo a centro campo ed è verissimo io continuo a sostenere ogni anno e lo farò anche quest'anno che se c'è un reparto dove tendenzialmente non ha tanto senso andare a investire il 10 il 12 il 13 per cento su dei singoli giocatori è proprio il centro campo perché perché poi ogni anno studiando bene il listone analizzando bene il precampionato studiandosi bene tutte le squadre è possibile individuare 3 4 5 6 7 giocatori a seconda della stagione pagandoli il 4 5 per cento a centro campo che poi hanno un rendimento a volte simile a volte superiore a volte poco inferiore rispetto a quello poi del fantomatico top ok questo è sempre vero ma c'è una grossa differenza perché se io sbaglio l'acquisto di un top a centro campo vorrà dire che ho perso il mio 10 12 per cento se sbaglio l'acquisto in attacco del mio top vuol dire che ho perso il mio 30 35 40 per cento quindi l'attacco è sì importante ma questo questa concentrazione di budget diversa è un'arma a doppio taglio perché un flop acquistato in attacco tra i primi slot ha sicuramente un peso specifico 2 3 4 volte più grande rispetto a un flop acquistato a centro campo e non parliamo della difesa ok quindi l'attacco storicamente negli ultimi anni ha fatto tante vittime proprio per un discorso non tanto di quantità di flop per reparto quanto di budget speso in quel determinato reparto passiamo ora a parlare della difesa perché la difesa è sempre stato un reparto abbastanza sottovalutato fino credo più o meno a un anno fa ok negli ultimi due stagioni ma soprattutto nell'ultimo anno qualcuno giustamente è rimasto un po deluso rimasto un po scottato anche dalla difesa innanzitutto per parlare di difesa dobbiamo fare una piccolissima parentesi sul discorso modificatore perché magari molti di voi stanno guardando questo video e non conoscono la differenza tra un modificatore classico e un modificatore dinamico il modificatore classico è il modificatore che c'è sempre stato si prende il voto non il fantavoto il voto del portiere e dei tre migliori difensori di una difesa schierata almeno a 4 quindi se tu giochi 3 4 3 il mod non scatta ok cosa succede si fa la media tra questi quattro voti portiere e tre difensori migliori a livello di voto e a seconda della media che esce fuori si dà 0 1 punto 3 punti o 6 punti ora 6 punti non li prende praticamente mai nessuno perché bisognerebbe avere una media pari o superiore al 7 che vuol dire che su quattro giocatori avere una media del 7 è abbastanza impensabile i tre punti si possono prendere media del 6 e mezzo il punto è diciamo il motivo base per cui schierarsi a 4 dietro perché basta avere una media del 6 ora qualcuno di voi potrebbe dire ma cosa me ne faccio io di un punto anche qui molto dipende da quanti siamo al fantacalcio perché è ovvio che avere il punto di mod in un fantacalcio a 6 o in un fantacalcio a 8 conta il giusto già averlo costantemente in un fantacalcio a 10 o eventualmente addirittura in un fantacalcio a 12 è sicuramente un qualcosa di importante in primis perché ci dà costanza alla squadra in una competizione a scontri diretti avere sempre quel punticino lì che magari a volte diventa anche tre punti spesso può fare la differenza e poi ripeto in virtù proprio del fatto che spesso a centrocampo in attacco non sempre abbiamo la bravura o la fortuna di beccare i giocatori dal bonus costante avere quel punto sempre di modificatore vi posso assicurarvi che può fare la differenza è ovvio che però bisogna distinguere da caso a caso a seconda della rosa che abbiamo fatto perché se io sono riuscito a fare in un determinato fantacalcio a 10 anche col modificatore classico una rosa di centrocampisti attaccanti che non dico che fanno bonus sempre ma spesso sì allora lì devo un po' misurare meglio avere il punto assicurato o avere una concreta possibilità di avere quel più tre nel quarto slot che schiero a centrocampo al posto del mio quarto difensore e lì dipende da rosa a rosa quello che invece difficilmente dipende da rosa a rosa ma che dipende dal regolamento sono quei fantacalcio col modificatore dinamico perché il modificatore dinamico o a sei fasce come dice il nome a differenza del classico va sempre da 0 a 6 punti ma anziché dare 0, 1, 3, 6 punti da 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 punti le fasce sono da 0.25 e vi posso assicurare che questo fa tutta la differenza del mondo ad esempio una media tra il miglior cioè tra il portiere e i tre migliori difensori parli al 6,25 mentre nel primo caso quello del mod classico ci dava un punto qui ce ne dà 2 la media del 6,75 mentre nel primo caso avevamo 3 punti e qui ce ne dà già 4 e una media del 6,9 e qui ce ne darebbe 5 mentre nell'altro caso ce ne dava sempre 3 insomma è un modificatore che fa la differenza ok a mio parere per esperienza soprattutto fa la differenza quando andiamo a prendere i due punti quindi 6,26 6,3 due punti anziché uno fanno la differenza e ripeto anche un 6,78 6,80 vi posso assicurare che fa la differenza perché col 6,5 in entrambi i casi abbiamo 3 punti di modificatore ok già con il 6,6 nel dinamico abbiamo 4 punti 6,7 abbiamo 4 punti sopra 6,75 diventano 5 punti quindi 6,8 6,9 sono 5 punti poi i 6 punti anche qua non si prendono praticamente mai però diciamo che queste fasce da 0,25 vi possono davvero far fare la differenza poi ce ne sono diverse versioni c'è chi c'è chi fa solamente scattare il punto dopo il 0,25 quindi non so tipo 6,26 ti scattano i due punti 6,25 no c'è chi già col 6,25 fa scattare i due punti vabbè qua ce ne sono di diversi tipi su fantacalcio.it se andate a vedere delle impostazioni c'è tutto spiegato quello che è fondamentale capire è che col modificatore dinamico a 6 fasce il reparto della difesa diventa in certi casi il nostro attacco può sembrare una cosa strana però è così perché voi pensate l'anno scorso avere un Carlos Augusto o anche un Di Marco o un Di Lorenzo o un Posh sostanzialmente quando questi difensori segnavano parlo del più 3 quindi parlo del bonus pesante era quasi come avere due gol al prezzo di uno perché è ovvio che se io prendo la media voto di quattro giocatori e uno di questi mi sta prendendo 7 più 3 è molto probabile che magari almeno un punto se non due punti li andrò a prendere quindi quel più 3 del mio Carlos Augusto o del mio Posh in realtà diventa poi un più 4 un più 5 quindi quel gol raddoppia quasi il proprio peso e l'anno scorso ma anche in altre annate chi ha avuto una difesa con tanti bonus che siano assist che siano gol e quindi poi per forza di cose anche con dei voti positivi perché se segni il voto si alza lo sappiamo si è poi ritrovato in casa magari delle difese che a fine anno a livello numerico in termini di gol gli hanno portato magari 15-20 gol ma a livello di punteggio reale hanno avuto magari 30-35 punti bonus e questo fa tutta la differenza del mondo ragazzi quindi è ovvio per avere un mod che funziona serve anche un portiere che non va quasi mai sotto al 6 che qualche volta magari vi regala anche un 6 e mezzo e qua però ci vuole fortuna qualche rigore parato quello assolutamente sì ma è fondamentale avere difensori da bonus e qua si apre un'altra parentesi perché perché fino a un paio di anni fa se vi ricordate quando uno voleva avere dei bonus in difesa sapeva già che doveva spendere e spendere tanto perché c'era stato l'anno di Ternandez di Hakimi di Gosens che ha un po' cambiato il fantacalcio in difesa cioè prima di questi tre giocatori io vado a memoria non si arrivava quasi mai a spendere il 10% per un singolo giocatore le cose poi dopo quell'anno lì sono cambiate e devo dire che qualcuno poi c'è anche un po' rimasto fregato perché nelle ultime stagioni non abbiamo più avuto una stagione con tre giocatori di quel tipo top a quei livelli però c'è un però perché soprattutto l'ultimo anno ci ha insegnato che anche in difesa così come a centrocampo è possibile scovare nel grande calderone degli underdog nel grande calderone delle scommesse è possibile pescare giocatori che poi magari fanno tre quattro cinque sei sette gol è facile assolutamente no però io vorrei che ci staccassimo un po' dal collegamento logico difesa costosa tanti bonus difesa low cost pochi bonus l'anno scorso ci ha insegnato che non è così è possibile costruire una difesa anche con il 10 15% e avere due tre giocatori che poi ci fanno diversi bonus durante l'anno questo aspetto è fondamentale perché in un fantacalcio con modificatore dinamico a sei fasce è ovvio che il prezzo dei difensori aumenta esponenzialmente e l'anno scorso quelli che hanno fatto delle difese anche esagerate da 25 28 30% poi sono rimasti fregati perché perché ci sono stati tanti flop anche sui centrali da modificatore ok che sono un tipo di difensore che per il mod a sei fasce è importante perché è vero il gol conta ma anche avere un difensore che prende sempre 6 e mezzo 7 vi posso assicurare che fa tutta la differenza del mondo il problema è che l'anno scorso tanti di quel tipo hanno flopato pensiamo a screener tomori kalulu e lo stesso bremer così così e così via ok quindi il mio consiglio in generale è comunque quello che se avete deciso di puntare su una difesa da mod a sei fasce giusto avere magari uno o due nomi un po' più da voto però cerchiamo sempre di andare a caccia dei bonus in difesa non è un caso che anche l'anno scorso poi alla fine i migliori difensori tra i migliori difensori la maggior parte non fossero centrali ma esterni che siano esterni di un 3-5-2 che siano esterni bassi di una difesa 4 ma almeno nelle ultime stagioni fatta qualche eccezione se un giocatore gioca esterno di un certo livello ha più possibilità di fare bonus rispetto a un centrale e allora per chiudere qual è la strada corretta da percorrere magari quest'anno in un fantacalcio a 10 giocatori dove abbiamo il modificatore difesa pesante leggero a seconda di quello che adottate perché poi c'è anche il mod depotenziato di cui non ho parlato che è un mod ancora più debole del mod classico e lì secondo me è quasi come non averlo dicevamo in un fantacalcio a 10 con il modificatore quest'anno è giusto tenersi il 50-60% per l'attacco oppure è più giusto magari andare a strutturare una rosa più equilibrata in tutti i reparti ma allora innanzitutto una cosa che dico ogni anno e la ripeto anche ora prima di parlare di percentuali per reparto quindi quanto devo spendere in difesa quanto devo spendere a centro campo la mia risposta è sempre dipende dipende dalla tua lega perché io ti posso anche dire che secondo me per fare una rosa abbastanza equilibrata bisognerebbe spendere circa il 10% in porta a grandi linee un 20% scarso in difesa se c'è il mod un 20% buono a centro campo e il 50% in attacco io ti posso anche dare una suddivisione così che a livello teorico è anche corretta nella maggior parte dei casi ma se poi la tua lega storicamente è abituata a conservarsi il 60% in attacco o è abituata ad arrivare in attacco con il 40% capite bene che queste percentuali che io ti sto dando che io vi sto dando poi si rivelano scorrette quindi non c'è cosa più sbagliata di ragionare a priori prima dell'asta e dire ok io spendo questo in difesa questo a centro campo questo in attacco no dipende da la tua lega ma dipende poi dalla tua asta perché se c'è una cosa che ci ha insegnato il fantacalcio è che ogni anno è diverso dagli altri e anche all'interno della stessa lega dove ci possono essere dei trend che si ripetono ogni anno poi a seconda del listone a seconda di tante cose che riguardano in quel momento l'asta del fantacalcio le cose possono cambiare quello che è fondamentale capire e su questo invece possiamo dire delle frasi forti perché lo penso assolutamente è che l'attacco sicuramente è il reparto che dove dovresti sbagliare meno ecco perché perché comunque è il reparto dove spenderai di più è del reparto dove se sbagli meno hai sicuramente più possibilità di avere una rosa competitiva per i primi posti questo è oggettivo è sempre così sia che tu ci spenda il 45% del budget sia che tu ci spenda il 50% o il 60% questo è sempre così ma è fondamentale capire che soprattutto in quei fantacalcio da 10 giocatori in su e che abbiano anche il modificatore difesa l'attacco non deve diventare così fondamentale come molti pensano l'attacco aiuta sì a vincere meglio il fantacalcio ma se noi riusciamo a costruire una rosa equilibrata con una difesa che spesso ci regala gol e punti da modificatore con un centrocampo dove andiamo a beccare il bug dell'anno o magari due o tre underdog che vanno a overperformare ecco a quel punto lì il nostro attacco anche se da 1 a 10 non rende 9 non rende 10 non rende 8 ma rende 7 noi abbiamo comunque ottime possibilità di fare bene al fantacalcio perché perché poi come sapete in una competizione a scontri diretti quello che fa la differenza non è fare 80 4 5 volte se poi devo fare 60 4 5 volte ma è fare sempre almeno 2 gol la famosa regola del 72 che poi può essere a volte valida o non valida anche in virtù della fortuna o della sfortuna che becchiamo nel calendario ma se noi con costanza riusciamo a raggiungere sempre i 72 punti vi posso assicurare che ha meno di calendari super sfavorevoli noi un posto sulle prime tre piazze ce lo giochiamo sempre dico questo e dico anche che per arrivare a 72 non è necessario avere un attacco stellare perché se io ho fatto una rosa che non prende gol magari ho anche il clean sheet prende costantemente un paio di punti di modificatore ho dei buoni voti eccoli che sono già intorno al 69 magari o il gol del centrocampista o il gol dell'attaccante eccoli che col voto positivo sono già intorno al 72 e mezzo 73 quindi l'attacco è importante sì ne parleremo tanto quest'estate parleremo di attaccanti vi anticipo già che ve l'ho già detto ma lo voglio ripetere perché poi è lì dove dobbiamo arrivare che la tappa finale di questo percorso dei video di luglio sarà quello di arrivare a un sistema di fasce diverso dal sistema di fasce tradizionale e per arrivarci però dovete capire tutte queste cose che diciamo giorno per giorno quindi il fatto di avere un attacco forte ma che non sia più per forza di cose il reparto più importante del nostro fantacalcio è fondamentale poi per capire certi passaggi che useremo dal sistema tradizionale di fasce a quello che vi porterò anche quest'estate come alternativa vedrete ragazzi che proprio come un puzzle tassello dopo tassello arriveremo poi a quel discorso lì c'è ancora tempo il viaggio appena iniziato spero che sempre più persone tra di voi si unisca a questo viaggio io vi saluto vi ringrazio mi raccomando like mi raccomando iscrivetevi al canale grazie mille ciao a tutti e a domani con un altro video dedicato ovviamente al fantacalcio ciao